Se l'obbligazionario ride, l'azionario piange. Sei d'accordo con me? Prova a seguirmi. Ormai, diverso tempo fa, avevamo disegnato questa faccina che ride sul rendimento del decennale degli Stati Uniti. Ebbene, siamo arrivati a concludere il disegno della faccina che ride. Ma se noi guardiamo attentamente questo trend, è un trend che non dà per nulla l'impressione di voler smettere al momento. Questo è il fatto. E noi, come avevamo commentato già all'epoca, se avevamo affermato che se ci saranno dei nuovi massimi sull'obbligazionario, è probabile che dei nuovi minimi sull'azionario dovranno ancora vedersi. E infatti l'azionario sta iniziando a cambiare la sua tendenza di fondo. Mentre l'obbligazionario, come detto, al momento si trova ad un rendimento sul decennale di 4.476, ma questo è un trend forte, fortissimo, che si sta mantenendo sempre al di sopra della media mobile veloce e al momento non sta dando dei segni ancora di inversione. Siamo ritornati ai valori di rendimento del 2007, tra l'altro un anno che anche numericamente vuol dirci, forse vuol dirci qualcosa, vuole comunicarci qualcosa. Quindi sembrerebbe che questi massimi storici possano essere ancora ritoccati verso l'alto per quel che riguarda l'obbligazionario. E quando le obbligazioni iniziano a rendere il 4-5%, insomma le persone iniziano a farsi qualche domanda se convenga di più un'obbligazione o il rischio intrinseco in una azione. Andiamo anche a vedere velocemente quello che è il rendimento dei titoli italiani, ad esempio, che sono arrivate al 4,5% e si stanno muovendo a rialzo, anche in questo caso, nel tentativo di arrivare ai massimi recenti di 4.9%, che comunque è un tantissimo equivale, in questo caso, ai massimi del 2013, ma anche l'obbligazionario, i rendimenti dell'obbligazionario tedesco, guardiamo che tipo di impennata con i rendimenti che sono già arrivati al massimo dell'ultimo periodo. Quindi equivale, in questo caso, ad un rendimento del 2,7%, che sembra poco in confronto agli altri, ma è tanto per l'obbligazionario tedesco che si è riportato sui valori del 2011. Bene, andiamo a vedere adesso però qual è la situazione sugli indici, partendo dagli indici americani, partiamo proprio dal Nasdaq, perché abbiamo già detto le volte scorse come questa struttura si sta ancora sviluppando sul weekly, mentre è molto più chiara sul daily, ad esempio. andiamo a vedere il daily, allarghiamo un pochettino la finestra. È chiaro a tutti che qua si sta configurando ormai in questo momento una struttura di swing discendenti, perché abbiamo già superato questo primo swing nettamente con un'accelerazione ribassista molto interessante e ci stiamo avvicinando al secondo punto di minimo. Secondo me potremmo anche rivedere questo indice arrivare nei pressi quantomeno della prima media mobile rossa sul daily e poi staremo a vedere. Adesso qua è in una zona di reazione, reazione che potrebbe portare il titolo a fare che cosa? A riavvicinarsi alla media mobile veloce per poi riprendere il suo cammino in discesa. Abbiamo visto come c'è stata la prima accelerazione ribassista, poi dopo c'è stata questa seconda fase che generalmente viene chiamata il rally automatico. Per chi conosce Wyckoff, questo è l'automatic rally. Cioè quando ad un certo punto probabilmente questa ondata ribassista era un po' troppo prematura e ad un certo punto la pressione ribassista inizia gradatamente a diminuire e ritornano fortissimi tutti quanti quei compratori che vogliono rivedere o che sperano di rivedere sui massimi i titoli e l'indice. Però ad un certo punto nuovamente viene a diminuire questa forza. Vediamo proprio benissimo anche qua come io ho evidenziato questo calo di forza perché siamo stati per tutta l'estate lì a girovagare senza riuscire a trovare lo spunto necessario. E adesso per ritornare su. Adesso stiamo nuovamente tornando in fase discendente con una nuova importante accelerazione ribassista e questo porterà secondo me molto presumibilmente ad un reale incrocio quindi quello che qua non si è riuscito a concretizzare probabilmente verrà concretizzato da qui a breve e potremmo vedere il titolo appunto l'indice scusatemi arrivare nei pressi della media mobile rossa a 200 periodi che questo vorrebbe dire riportarsi poi sui pressi nei pressi della media mobile verde intermedia sul weekly comunque inizierebbe già a diventare un interessante trend down vediamo la stessa accelerazione ribassista anche sull'SP500 anche qui io mi aspetto non prevedo il futuro diciamo che siamo già arrivati a metà siamo già anche vicini alla media 200 periodi quindi io qua mi aspetto una piccola interruzione di questa spinta ribassista quindi una ripresa del trend positivo e in questo caso in questo momento esattamente questo è il momento topico nel quale noi dobbiamo stare molto attenti e valutare se ci sarà questo famoso swing sulle medie oppure se si riuscirà a superare la media ritornando a salire dunque andiamo a vedere Europa Europa interessante perché ha già rotto la media a 200 periodi sul daily c'è stata questa interessante lateralizzazione nel quale c'è stato tutto un accumulo da parte da parte delle mani forti poi c'è stato questo spike verso l'alto che è stato un vero e proprio trappalone per tutti quelli che avevano sopra questa liquidità avevano gli ordini di buy stop è stato un vero proprio trappalone e poi eccoli lì che hanno ripreso a scendere al momento siamo in questa fase molto importante perché sul weekly siamo a metà tra le due medie e sul daily siamo già al di sotto e qua dobbiamo anche in questo caso aspettare per un'accelerazione ribassista che ci sia lo swing al di sotto della media lì sarebbe un'accelerazione davvero importante che potrebbe portare il titolo anche a questa fascia di reazione più o meno dove ci sono stati vedete tutti questi massimi potrebbe ritornare anche su questi massimi in area 3.800 italia che in maniera straordinaria non è mai successo in tanti anni in 20 anni che faccio il trader o l'investitore o il divulgatore non è mai successo in italia così più forte rispetto a tutti gli altri continua a mantenersi al di sopra della media mobile veloce a 20 periodi ma poi ad un certo punto anche lei dovrà desistere se tutto il resto del globo lo farà staremo a vedere come reagirà innanzitutto vediamo già anche sul weekly come ci sia questa forte negatività in controtendenza sul nostro oscillator quindi che si sta muovendo al contrario rispetto al movimento rialzista dei prezzi e questa è come una molla io lo dico sempre come una molla che si tira 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 e poi quando questa molla poi ad un certo punto verrà rilasciata ci sarà un'accelerazione ribassista che secondo me farà anche abbastanza paura quindi abbiamo visto un po' di equities il nostro amico bitcoin al momento è ancora sempre lì l'halving è sempre di più in avvicinamento e comunque in ogni caso la media mobile ha 200 periodi sul weekly non la vuole perdere e non la perderà secondo me l'oro l'oro ha una forza straordinaria anche se di fatto il grafico non va da nessuna parte ma la forza è straordinaria perché voi pensate a quelli che sono gli antagonisti dell'oro a come l'oro riesca a rimanere su quei livelli lì nonostante sia trascinato al ribasso dal dollaro che è sempre più forte ma anche dai t-not che gli fanno da concorrenza perché quando si parla di bene rifugio insomma avere un t-not dei bond americani ormai al 4,5% e oltre chiaramente iniziano a fare gola e il nostro oro perde un pochettino di appeal come bene rifugio e quindi però ciononostante guardate come è forte è forte perché è ancora lì che sta resistendo e fino a che non perderemo almeno su weekly area 1900 io direi che possiamo anche stare abbastanza tranquilli segniamoci anche magari questo minimo in area più o meno 1900 e vedremo in futuro che cosa succederà magari metto un bel colore che in futuro ce lo ricordiamo abbiamo detto il dollaro che continua a salire siamo arrivati in questo momento in questi giorni in queste settimane in questa forte zona di reazione una zona che è già stata toccata in passato diverse volte è possibile che ci sia uno storno piccolino ad arrivare a fare il classico delfic phenomenon quello che di cui vi ho parlato che vi ho descritto in un video di non molte settimane fa quindi il delfic phenomenon è il classico swing sulle medie riavvicinamento sulle medie dopo dopo l'incrocio adesso stiamo vedendo proprio l'incrocio in questo momento e insomma dovesse accadere qualcosa di simile anche perché noi arriviamo da una sfilza di settimane verdi davvero allucinante e dovesse verificarsi il delfic phenomenon sul dollaro arriveremo davvero a delle cifre allucinanti nuovamente magari anche perché no nei pressi di nuovo dei massimi quassù davvero dei livelli allucinanti che porterebbero l'euro dollaro a ritornare sui minimi quindi attenzione per chi si occupa prevalentemente di forex il vix il vix ha dato una bella bastonata al rialzo e lì lo stanno capendo che le borse sono ad un punto critico e piano piano il vix rialza la testa dai minimi e quindi arriverà sicuramente se l'equity l'SP500 nella fattispecie dovesse rompere le medie importanti rivedremo un vix di nuovo in area perché no 28 30 di nuovo io me lo spetto nei pressi di questi massimi è solamente una sensazione nulla di matematico però sappiamo che i movimenti del vix possono essere estremamente violenti e repentini bene questo è tutto per la carrellata sui mercati di questo venerdì come sempre l'esortazione è sempre la stessa ci avviciniamo al weekend non pensate alla borsa per quella ci penseremo dal lunedì godetevi il weekend ci vediamo sul circolo degli investitori non pensate alla borsa non pensate alla borsa